La Liguria è luogo di terra e mare e oggi la raccontiamo attraverso una delle sue tante identità, la fogassa col formaggio. Recco, riviera di Levante, città della leggendaria focaccia col formaggio. Una focaccia a pasta non lievitata, tirata a mano in due sfoglie molto sottili, farcita con stracchino fresco e cotta al forno. Vengo da una famiglia di ristoratori, ma nel 2006 ho deciso di fare qualcosa di nuovo, fondando l'antica forneria di Recco. L'idea era quella di oltrepassare i confini del nostro territorio, portandone le specialità sulle tavole italiane. Per fare questo abbiamo scelto l'unico metodo di conservazione che ne preservasse intatti il sapore e le caratteristiche di fragranza, senza aggiunta di conservanti, ovvero la surgelazione. Abbiamo iniziato proprio con la focaccia col formaggio, che con la sua antica e tipica ricetta era conosciuta a livello locale come una delle prelibatezze più apprezzate. Stracchino, farina, acqua, olio e sale, pochi semplici ingredienti che arrivano freschi ogni giorno per essere lavorati artigianalmente. Infatti le sfoglie vengono tirate a mano come fossero un finissimo lenzuolo e su di esse viene distribuito allo stracchino un bocconcino alla volta. Importante come un ingrediente poi la cottura, seguita vista da occhi esperti che sanno riconoscere le caratteristiche ideali di un prodotto che è sempre diverso. Infine la surgelazione, che avviene pochi minuti dopo la cottura, per preservare intatte le qualità organolettiche della focaccia. Per il confezionamento dotiamo metodi di salvaguardia dell'ambiente riducendo al minimo le quantità di imballaggi. Mia, ha le proprie bunne!